Diciamo che siamo obbligati in un mondo dove la competitività è dietro l'angolo, differenziarsi dando più produttività al nostro lavoro, quindi non ci si può fermare. Ecco, non bisogna avere paura di fare investimenti sempre nel momento in cui hai la richiesta per la tua azienda. Quindi è importante essere al passo con i tempi, garantire ai tuoi clienti la massima produttività, competitività, competitività e quindi è importante essere aggiornati. Poi avete fatto investimenti anche nel pieno della crisi. E ci abbiamo creduto, sono quelle cose che dici o la va o la spacca. Bisogna avere il coraggio di poter fare quel salto che ti permette di o star dentro o star fuori. Se non lo fai nei momenti in cui gli altri cedono il passo, forse non saremmo dove siamo oggi. E voi nel 2018 avete scelto di festeggiare i 30 anni insieme ai vostri dipendenti, come? Sì, abbiamo festeggiato i nostri 30 anni insieme a loro perché se siamo qui è grazie a loro e li abbiamo portati a Tenerife in una vacanza a premio insieme a loro e alle loro famiglie proprio per festeggiare nel modo migliore. Quante persone? 40. 40 persone quindi comprensibili di famiglia per un totale di 6 giorni. 6 giorni, sì. 6 giorni, sì.